Dopo i successi di Venezia Pechino, Transiberiana Motor Aid, Etiopia Wild Africa e Cape to Cape In moto da Città del Capo a Caponord, il Marco Polo Team è pronto a raccontarvi un'altra emozionante avventura on the road Indocina Jungle Raid, in moto alla scoperta del Vietnam più puro Sono le 5 del 3 maggio 2011, siamo nel punto più a nord del Vietnam Lì è tutto il torno a Cina So I brought you complexing thoughts And words were at a loss It's a good day to skip because Before he's gonna come It's come Why He's there to keep yourself But don't you ever listen at all Pair it's on enforcing the laws Oh 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 Grazie a tutti Don't you ever listen at all Parents are enforcing the law Estate 2011, non perderti il nuovo film Indocina Jungle Raid Grazie a tutti Grazie a tutti